A Caltanissette i sapori del carnevale rendono regina la golosità dei nisseni che non si nutrono di sole e chiacchiere come il resto d'Italia, ma che le impreziosiscono anche con una goccia di marsala. Nell'impasto, che siano fritte o al forno che siano ricoperte di candido zucchero a velo o a miele, una cosa è certa, mettono d'accordo tutti, grandi e peccini. Il nisseno, secondo me, è un tradizionalista per natura, quindi il dolce che preferisce per il carnevale è la raviola, la classica raviola nissena. Tra i dolci che i nisseni hanno acquistato maggiormente nel periodo del carnevale ci sono appunto le sfingi all'uovo, ma soprattutto quelle di pane, per cui l'impasto non più realizzato solo con farina e uova, ma con farina, lievito, acqua, eccetera. Insomma, quelle chiamate anche caserecce. Naturalmente non solo i nisseni lo hanno fatto, ma anche i nisseni all'estero, tant'è che oggi, anche attraverso l'e-commerce, le ordinano e se le fanno spedire, proprio perché non possono farne a meno. Quindi via libera appignolata farcita con miele, confettini colorati, sfinci semplici o farcite di creme, raviole. E per chi ama mettere le mani in pasta, questo è il consiglio. Il segreto per prepararle in casa, qualora vogliate cimentarvi un po', è di sicuro una frittura fatta bene. Prescindendo dagli ingredienti, dalle materie prime che devono essere di altissima qualità, l'olio preferibilmente deve essere alto oleico, per cui con un punto di fumo basso, a 180 gradi, quindi una temperatura alta, in modo tale che il prodotto non abbia troppo assorbimento di olio. Il segreto secondo me sta sempre nella cottura, principalmente, ma poi anche nello spessore, perché una chiacchiera più friabile la vuoi, più croccante la vuoi, più sottile la devi fare.